Amici della Formula 1, benvenuti su Formula Talk, il podcast dedicato alla Formula 1 e dintorni, realizzato da appassionati per appassionati. Ci trovate sulle principali pattaforme di podcast come Spotify. Per seguirci basta un piccolo gesto. Grazie. Per gli allonzisti non è una domenica da ricordare, anzi tutt'altro. Partito secondo, finito settimo, dietro addirittura al suo compagno di squadra Ocon che finisce sesto. Grande, grandissima gara in rimonta, quella di Leclerc, partito diciannovesimo, finito quinto. Anche un po' sfortunato perché è stato molti giri dietro a Ocon, ma il protagonista in assoluto, a mio avviso, è stato il vincitore delle Gran Premi del Canada 2022, ovvero Max Verstappen. Perché, secondo me, oltre a fare una partenza, partito in pole, straordinario, affionda, è riuscito, è stato anche bravo ad azzardare un pit stop fatto al giro 10, prospettando così 60 giri sulla gomma più dura, montata. E invece per una serie di vicissitudini, due Virtua Safety Car e una Safety Car, nella prima Virtua Safety Car Verstappen si è fermato, poi ne ha approfittato della Safety Car per montare la gomma media e tenere a bada, mica tanto, dietro Sainz che gli è finito secondo. Dunque, una gestione, quella di Verstappen, a mio avviso, da campione straordinaria, una vittoria molto importante, strappa addirittura all'ultimo giro anche il migliore giro, il giro più veloce, con il punto addizionale a suo favore. Come detto, secondo, Sainz, Sainz con un weekend che, a mio avviso, può ritenersi soddisfatto, ma è comunque un pilota che deve colmare il gap col suo talento, perché ha molto talento ma non riesce ancora a capitalizzare, soprattutto deve rinviare la sua prima vittoria in carriera. Sainz che, ad un certo punto, si è ritrovato primo, perché Verstappen si era fermato per una seconda volta, ma poi, saggiamente, anche lui si è fermato, ha seguito la strategia ed è finito molto vicino a Verstappen, poi alla ripartenza, dopo la Safety Car, a circa una decina di giri, alla conclusione. Manca ancora un pizzico in più a Sainz per fare il salto di qualità, ma con Verstappen, così, in secondo posto, di tutto, di grande spessore. Poi, seguendo, come sto facendo, l'ordine di arrivo, chiude il podio un meraviglioso Lewis Hamilton. Hamilton trova il podio dopo non molto, perché lo ha fatto dalla prima gara, finisce finalmente davanti al suo compagno di squadra race, che comunque è quarto, e che comunque, per la nona gara consecutiva, finisce nella top 5. Un Hamilton che, nonostante le enormi difficoltà della Mercedes, con il proposing, questo saltellamento molto vistoso, dopo le fatiche del Gran Premio di Azerbaijan della scorsa settimana, riesce a strappare un podio molto, molto meritato. Bravo Hamilton a fare una gara guardinga, soprattutto a gestire e appazientare l'errore di chi li partiva davanti, ovvero Alonso, finito settimo, ma partito secondo. Come ho detto, quarto Russell, anche lui, molto bravo, nulla da dire, è un Russell che comunque mantiene botta, quinto posto per Leclerc, anche lui, secondo me, ha ottenuto il massimo, forse poteva tenere a qualcosina di più, perché per molti giri è stato imbottigliato da Ocon, con Ocon che aveva una gomma più fresca, Leclerc doveva ancora fermarsi e faceva molta fatica a tenere la macchina in traiettoria e comunque non riusciva ad avvicinarsi oltre un certo punto al pin di Ocon, ma comunque Leclerc con un quinto posto ottimo. Leclerc è che... perché Leclerc è stato penalizzato, costretto a partire in diciannomesima posizione? Perché ha superato il limite massimo di alcune componenti che possono essere sostituite all'interno di un campionato. La prima volta in cui viene aggiunto un componente oltre questo limite consentito, la penalità ammonta a dieci posizioni in griglia. Le volte successive invece poi saranno cinque e in questo Gran Premio Leclerc giustamente ne ha approfittato cambiando una centralina, motore endotermico, MGU-K e altre componenti. E devo dire che ha ripagato perché non si aspettava la vittoria, non si aspettava il podio, però si ritroverà dalla prossima Gran Premio in Inghilterra a Silverstone, una power unit sicuramente più giovane degli altri. Sesto posto per Acon, che dal suo punto di vista chiude in un ottimo posizionamento, settimo posto per Alonso. Secondo me è uno delle gare peggiori della sua lunga carriera. Un Alonso che, soprattutto in questi ultimi periodi, sta riscrivendo la storia della Formula 1, non sta riscrivendo i numeri di Hamilton e di Schumacher in termini di vittoria pole position, ma di longevità. E ha ottenuto una prima fila dopo quasi dieci anni per una qualifica, quella del sabato, bagnata sì, ma comunque strappata con i denti. Una strategia dell'Alpine gestita da dilettanti allo sbaraglio. Mi dispiace dire perché ho grande stima per il team Alpine, per il team Renault, ma quest'oggi davvero non ho capito il motivo per il quale Fernando non è stato fatto rientrare alla seconda Virtual Safety Car. Alla prima, purtroppo, è stato sfortunato, perché appena scattato il Virtual Safety Car, lui aveva appena passato il traguardo, ma alla seconda invece poteva, è come, fermarsi, approfittare e non perdere tanto, tanto tempo che l'ha fatto addirittura scivolare dietro al compagno di squadra Ocon. Un'umiliazione, aggiungerei io, ma per l'Alpine va bene così, perché evidentemente, guardando le classifiche generali alla mano, Ocon fa sesto, ma soprattutto l'Alpine fa più punti delle dirette rivali, come Alfa Romeo, come McLaren e Aston Martin. Le Alfa Romeo di Bottas, ma soprattutto di Zoo, ottavo e nono, ottima la gara di Zoo, devo dire, migliore sicuramente finora in questa stagione, e il decimo posto per Stroll, che con un Aston Martin davvero discutibile al Gran Premio di Carasa, riesce a strappare un punticino molto importante, soprattutto perché finisce anche davanti a Fette, e davanti un Ricciardo che sembrava essersi ripreso, ma finisce a ridosso del zona punti. Come detto, Perez ritirato, forse non per un problema alla Power Unit, ma per un problema idraulico, comunque un weekend da dimenticare per Perez, che comunque, secondo me, riesce in un modo o nell'altro a capitalizzare un weekend che comunque saresti andato in perdita in termini di classifica piloti, perché poi in termini di classifica costruttori tu guadagni dei punti abbastanza importanti, poiché di mezzo c'è il ritiro di Perez. Con le Clerc, dopo la disfatta dell'Azerbaijan, sei stato costretto a cambiare componenti, e secondo me, giustamente, già che ti ci trovavi, hai cambiato gran parte delle componenti che dovevi cambiare, e come detto prima, te ritrovi fresche, nuove rispetto ai tuoi competitor, soprattutto in un gran premio, il prossimo, quello di Silverstone, in cui la Power Unit dovrà dire la sua. E poi Sainz, secondo me, è stato molto bravo a gestire una situazione che per lui è abbastanza insolita, quella di tenere le redini del team, cercare di dare fastidio a Verstappen. Lo ha dato di fastidio a Verstappen, ma Verstappen è stato sicuramente ancora una volta qualcosina in più rispetto a un Sainz. Ripeto, un Sainz che una tiratina d'eroe che le avrei date per le qualifiche, però anche lì gli è sfumato il secondo posto solo per il fatto che Fernando Alonso ha fatto uno giro straordinario, e soprattutto perché Alonso terminava per ultimo il giro e quindi giovava delle migliorie delle condizioni della pista. Un gran premio del Canada, vivace, bellissimo, sicuramente, in netta ripresa alle varie spettacolarità rispetto a quelle della Zorbaigian. Con i premi, beh, il pistone d'oro, il peggior pilota di giornata personale, a malincuore lo assegno a Fernando Alonso. Più che altro non per sue colpe, perché da quanto si evince dai team radio Fernando voleva rientrare, quando era abbastanza logico farlo, ma è stato impedito dal team, poiché il team aspettava, sì, una safety car che poi è arrivata, ma ha perso talmente tanto tempo che chi gli era davanti, pur fermandosi, è riuscito dai box davanti ad Alonso. Quindi pistone d'oro a malincuore ad Alonso. Trofeo Maldonado è l'unico che ha sbattuto in questo gran premio, ovvero Tsunoda, un errore abbastanza banale, ma soprattutto non da lui. La gestione delle gomme oggi è stata abbastanza tragica, un po' per tutti, ma sappiamo che il gran premio del Canada è abbastanza esigente per le gomme, quindi non assegno il premio speciale di Nico Hülkenberg, però lo assegno un altro premio speciale, ovvero quello Antonino Guess all'Alpine, perché insomma erano molto soddisfatti, puntavano tanto, sicuramente di più, e invece hanno ottenuto un sesto e un settimo posto, soprattutto il pilota che ti è partito secondo e finito settimo, e dietro all'altro tuo pilota. Finisco l'assegnazione dei premi con il miglior pilota di giornata, oggi è davvero difficile darlo, perché bisognerebbe premere Stroll, finito a punti, bisognerebbe premere Zoo, che secondo me è ingiustamente finito dietro bottas, bisognerebbe segnare ad Hamilton, uscito malconcio dall'Azerbaijan, ma in grande, in palla. In questo weekend Leclerc, che ha fatto una grande rimonta, un Sainz che ha tenuto botte, ha dato il filo da torcere a Sainz, scusate a Verstappen, ma chi ha vinto oggi ha avuto ragione, ha fatto, secondo me, non una grande impresa, ma una piccola impresa. Il mio Formula Talk Driver of the Day, il premio lo do a Max Verstappen, perché è stato molto bravo alle fasi iniziali, alla partenza, partendo appunto a Fionda, e poi è stato molto bravo a rischiare, ad azzardare, a fermarsi al Giro 10, chissà tentare di fare il Gran Premio sulla stessa gomma per 60 giri, ma poi, soprattutto al secondo pit stop sotto regime safety car, è stato bravo a difendersi da una Ferrari, che a lunghi tratti del circuito è sembrata addirittura superiore alla Red Bull. Quindi, un Verstappen sicuramente il migliore di oggi, ma ripeto, con le menzioni per Sainz, Hamilton, Stroll e Zoo. Io ho terminato qui, grazie per vostra attenzione, ci risentiamo, un prossimo episodio, ciao! Grazie a tutti.